L'esigenza di velocizzare le procedure di entrata in vigore del sistema di potenziamento dell'ARPA Basilicata e di non postecipare ulteriormente l'avvio di una nuova fase di controllo e monitoraggio ambientale nella regione dove risiede ed è operativo il più grande giacimento onshore d'Europa a Vigiano. Sono questi i motivi alla base della scelta effettuata dall'ente in via Verrastro di affidare ad un'agenzia interinale tramite bando e successivo appalto di 7 milioni di euro le procedure di selezione del nuovo personale dell'ARPA, metodo contestato da sindacati CGL e Will e FPL dal consigliere regionale Gianni Rosa, che intravedono in questa opzione l'assenza di trasparenza nella selezione del personale. Intanto i commissari della bicamerale sulle ecomafie coordinati dal presidente Alessandro Bratti in delegazione in Basilicata sul suggerimento del presidente Pittella si faranno portatori dell'istanza di deroga al blocco assunzioni con il governo nazionale, come avvenuto per l'Elva di Taranto. Nel frattempo però il bando per l'appalto scade il 30 settembre e l'assessore all'ambiente, Francesco Petrantuono, è pronto per avviare quella che lui ha definito come la più grande operazione di sistematizzazione e di controllo sul livello di monitoraggio ambientale avviata dalla regione Basilicata. Avevamo la necessità di velocizzare questa procedura che è un accordo quadro di selezione di un soggetto di somministrazione al lavoro. Ovviamente nel capitolato c'è il compito in capo al soggetto ARPAB di dettare criteri di selezione assolutamente oggettivi. Noi rafforzeremo questa cosa con una direttiva che definirà al meglio criteri di oggettività e di meritocrazia. Il rischio non è quello che si ripeta la stessa vicenda che è accaduta per Fenice dove ancora c'è un processo in corso? Penso che sia tutta un'altra cosa, nel senso che stiamo facendo un lavoro di messa in coerenza, mettendo anche le mani in problemi storici. Ci sarà un documento a breve completato che è quello di potenziamento delle azioni di monitoraggio e controllo di tutto il sistema Lucano. Questo progetto che chiamiamo per semplicità Masterplan è in realtà la base degli accordi applicativi, dei contratti che l'Agenzia firmerà esattamente con il soggetto aggiudicatario. Non solo la volontà di una selezione che sia trasparente, seria e effettivamente rispondente a criteri meritocratici, ci sarà anche un controllo a valle nella rendicondazione di quei progetti che sarà l'elemento di effettiva valutazione delle azioni messe in campo.